Musica Pesca locale sostenibile e ambiente cercano nuove sinergie per innalzare la qualità dei prodotti a difesa della natura. Sull'Elba per l'occasione c'erano Andrea Bartoli, vicepresidente di Fedagri Pesca, Conf Cooperative Toscana, l'assessore regionale Monni e il direttore del FLAG Roberto Seghi, oltre all'assessore regionale Stefania Saccardi. Le comunità di pesca e la protezione dell'ecosistema nell'arcipelago toscano era il tema del convegno. All'incontro erano presenti anche cinque sindaci dell'isola e il vicepresidente del Parco Nazionale dell'arcipelago toscano Stefano Feri. Oltre a numerosi pescatori delle marinerie elbane e della Toscana in generale e dei principali stakeholder elbani. Abbiamo avuto con il mondo della pesca, rappresentato non solo da Conf Cooperative, dal mondo comunque delle cooperative e di tante piccole aziende della pesca, per rappresentare sia a me che all'assessore dell'ambiente l'importanza di questa attività, le caratteristiche particolari di questa attività in Toscana e le problematiche sulle quali bisogna lavorare per evitare che si vadano a perdere ancora tante altre aziende che sono principalmente nella nostra regione aziende a carattere familiare, piccole e medie imprese, che si occupano di pesca e quindi si perda non solo un patrimonio in termini di opportunità di lavoro, ma anche un patrimonio in termini di pescato che poi arriva sulle nostre tavole. Quindi abbiamo fatto un punto sulla necessità di non andare a penalizzare ulteriormente la pesca con ulteriori limitazioni nel nostro mare, non per evitare o per porre ostacoli alla tutela dell'ambiente, ma anzi per costruire un equilibrio tra il rispetto dell'ambiente ma anche il rispetto dell'attività della pesca, considerando che i pescatori sono forse i più interessati custodi del mare. La Toscana ha già dato tanto al mondo del rispetto dell'ambiente con tante aree protette, con tante aree nelle quali c'è il divieto di pesca e c'è la tutela assoluta dell'ambiente. Stamani abbiamo discusso di quelli che saranno i prossimi passi per andare a garantire insieme anche all'assessore all'ambiente questo equilibrio tra ambiente e pesca.